allora questo è un video che faccio per te per te, su per te ho fatto da destra, vedete sotto la risposta fa risposta a pazzolute, che vuoi? che pazzolute? che pazzolute, pazzolute cioè non capisco che vuol dire, che significa, che significa, io non capisco comunque, tu mi hai fatto un video cioè non mi hai fatto una risposta sulla pacchetta lì di facebook, mi hai detto, su facebook, mi hai detto sai ti è che sei il mio hitler cioè hitler, modestamente un po' di contenuti, se vuoi, per tutta questa julence julence proprio sulla mia pacchetta io, cioè, ti sono grato, sei bravo, ti ho seguito ho visto anche video, carino, quello sottile, carino sono quarantina d'anni anche io tu hai anche bell'uomo, mi piaci cioè, ho 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 ho, modestamente voglio dire cerchiamo di non frittentare mi piace nel senso morale del termine, estetico si, cioè, si bello, però non sei proprio il mio esempio mi piace più la puccella, ecco cioè, volevo scrivere, volevo fare un video e io ti dico, vuoi fare un video, vuoi fare una risposta vuoi dimmi che è il tuo hitler, il tuo tio prende, perché si chiama, faccia libro perché si chiama facebook, faccia libro perché il libro, cosa ci fa sul libro? ci scrivi, ci scrivi ci scrivi, mi scrivi una lettera mi dici, caro Tec, mi piace e io dico, va bene, sono contento vediamoci e poi ti dà un bacio col cavato app, ci conosciamo ci comprendiamo, ti vediamo parliamo un po' del più del meno del diviso, del perro anche ho fatto la patuta cioè, sono simpatico, vedete, un spirito simpatico patuta del cazzo però faccio riuscire, hai capito? simpatia, ci vuole spontaneità come dici te questo video si sta un po' delungando io ve lo so da tutti che vuoi scrivermi vuoi farmi un video? farmi un video sei libero democrazia ha democrazia tu devi prendere mi scrivi una lettera caro Teco sei bravo mi piace e allora io dico mi piace anche te in senso morale determinante ci mancherebbe cioè capito dobbiamo cercare per ottenere la giusta distanza e niente perché sennò poi alla fine l'accento si rompe il puccello capito? e niente ti saluto ti mando un forte bacio come vuoi te e ehm puoi scrivere qui c'è l'email che poi alla fine ti dico perchè hai fatto facebook perchè fa schifo alla fine youtube non puoi neanche chattare non puoi fare niente tu dici prendi e scrivi lì scrivi scrivi una poesia un commento mi scrivi mi dici Diego mi hai rotto mi hai rotto le palle l'uccello tutto quello che vuoi mi hai rotto le scatole adesso non ho capito io riesco a capire anche il carattolo per questo non ho capito riesco a capire tutto capito la natura vedo l'essenza vedo tutto quanto vedo se una persona è brava o tigione est sei positiva o negativa come la pila capi tu ciappi la pila nel video la pila anche nella pila quella per alluminare si mette un'altra pila e tu capisci se funziona o no tu facci sei positiva mi dai mi dai proprio mi trasmetto le crie mi sento io ho fatto il tuo video e mi sveglio sereno mi viene voglia proprio di urlare la finestra mi sveglio e dico sono felice sono felice sono felice cioè mi fai felice però ci incontriamo scriviamo la lettera tic ci vediamo e poi venga capito? ciao pazzalute salute